La mia carriera in un certo senso la devo a Louis Ferdinand Céline, l'autore di un viaggio al termine della notte. La scoperta di questo romanzo è avvenuta in modo avventuroso, ero a Padova, era il 44, c'era stato un bombardamento, una grandinata di bombe, finito il bombardamento scappavo dal rifugio verso casa e passando in una piazza vendevano libri usati, tra questi libri mi ha impressionato il titolo, viaggio al termine della notte. Siccome in quel momento noi, ragazzi io avevo 16 anni, eravamo nella notte, nella notte della guerra così, l'ho preso, l'ho letto e mi ha impressionato, pensa che ne ho ancora la copia qui che si sta sfarinando, hai capito? Mi ha spinto in un certo senso a scrivere, quindi devo molto della mia carriera a questa scoperta. In America io ne parlai con Kerouac che era l'unico libro che aveva letto e gli dissi perché non ha letto altri libri europei, perché non si poteva andare oltre Selin e la stessa risposta 30 anni dopo me l'ha data Bukowski, gli ho fatto la stessa domanda ma ha risposto nello stesso modo e quindi sono molto grato a Selin. Dopo la guerra la mia famiglia era caduta in disgrazia, era caduta in povertà, al punto che mio padre era morto, mia madre e i miei fratelli vivevano da un parente pietoso che però non mi voleva. Tu hai 20 anni, va a lavorare Lazzarone. Ero affamato e una notte, era una notte di novembre, non la dimenticarò mai, c'era nebbia, camminavo nella periferia di Treviso meditando anche il suicidio perché non ne potevo più di saltare pasti, di avere freddo, di essere solo, di vergognarmi della mia povertà, ma ero talmente povero che non avevo neanche i soldi per il suicidio perché sapevo nuotare e quindi non mi potevo buttare a fiume, non avevo i soldi per compare la corda, non avevo i soldi per il veleno, neanche quelli per la rivoltella, buttarmi sotto un camion no perché avevo visto una volta uno, sembrava una cassetta di San Marzano squagliata sull'asfalto e mentre facevo queste meditazioni improvvisamente sono stato illuminato dai fari di un'automobile e ho registrato il rombo del motore, ai poveri non resta che riconoscere le automobili dal rombo del motore, era una Alfa Romeo, 6 cilindri, freccia d'oro, ce ne saranno state 5 o 6 nell'Italia disastrata del dopoguerra, la vidi, mi illuminò, passò e poi la sentì frenare e poi si aprì lo sportello e sentì una voce chiamare Luciano Vincenzoni e a quel punto mi prese il panico, se da quell'automobile qualcuno mi chiamava o io ero diventato matto dalla fame o era il diavolo e mi sono messo a scappare e il diavolo ha cominciato a corrermi dietro e mi ha raggiunto, era un ufficiale di Marina di Treviso, si chiamava Tony Roma, che nel 1943, 5-6 anni prima, era stato festeggiato dalla città perché aveva avuto una medaglia d'argento mi pare e tutti gli offrivano da bere e allora io che avevo la mia famiglia, la guerra, mio padre era un fornitore militare quindi un certo benessere, era un ragazzino, avevo l'onore di offrirle da bere, andammo in un bar e questo era ubriaco, ordinò un cognac francese che si vendeva sotto banco a borsa nera e io fece l'indifferente, invece il cognac francese costava 50 lire, la mia paghetta di una settimana, tant'è vero che io che stavo ad ordinare un caffè, ho sospeso l'ordinazione, lui si è bevuto il cognac e se ne è andato, quella sera che mi ha raggiunto mi ha detto dice, tu non sai quanto ti ho cercato, mi sono così vergognato di aver portato via un bambino le 50 lire di quel cognac, ho pensato se salvo la pelle finita la guerra lo vado a cercare, ho saputo che la tua famiglia se la passa male, posso aiutarti. Siccome le mie fortune non vengono mai sole, lui aveva conosciuto Rossano Brazzi, il quale l'aveva convinto a finanziare un film molto importante con l'attrice Maria Felix che era la più grande star messicana, si chiamava Oliva in Cantesimo Tragico, c'era anche Char Barbanello, un famoso attore, direzione di un certo secui, morale, decise di farlo e siccome mi sentiva sempre parlare di cinema, con entusiasmo mi nominò, senza sapere che cosa faceva, produttore del film e mi fece andare a Roma, quindi appartamento al Grand Hotel, ufficio a Via Piemonte, ero il produttore, cose da cascar per terra tramortiti, avevo letto la sceneggiatura, non avevo esperienza ma mi sembrava una gran troiata, glielo dissi, dico ma guarda che questo, tu non ti preoccupare, e così cominciai, facciamo il film che come io avevo previsto poi fu un famoso disastro, però l'importante è che io oramai ero a Roma, avevo conosciuto gente, perfino Roberto Rossellini mi aveva invitato a casa tua, perché i giornali dell'epoca scrivevano gli articoli, mi ricordo epoca, Domenico Meccoli, questi giovani venuti dal nord, perché come al solito a Roma c'era una grande crisi nel cinema, e questo qui aveva portato centinaia di milioni, e ero rimasto a Roma e quindi, e così sono rimasto e così è andato avanti, ecco, come mia abitudine, abitudine della mia famiglia, mi sono mangiato tutti i soldi, mi sono ritrovato senza una lira, non sapevo come sfangarla, e mi ricordai che avevo un soggetto in valigia, che avevo scritto da un racconto che avevo letto su un giornale di un fatto avvenuto a Vienna, di un padre trambiere che aveva rubato un tram perché si vergognava davanti al figlio che scoprisse che lui era bigliettario, avevo scritto 20 pagine, pensai che Fabrizzi sarebbe stato l'attore giusto e quindi andai le notti in giutti locali fino a che lo trovai alla Ruppe Tarpea e lui molto gentilmente mi dice dammi un telefono che ti chiamo appena l'ho letto, gli dei del telefono della pensione dove dormivo, che si chiamava California, dove non pagavo e la padrona, la signora Camellini che era paralitica, stava a letto, ma aveva due specchi parabolici agli angoli della porta con cui controllava il corridoio per vedere i clienti morosi che passavano e la sua voce arrivava come una sassata nella nuca, Vincenzoni l'ho vista, se non mi paga chiamo la polizia, allora io avevo imparato dai film americani a fare il passo del giaguaro e entravo strisciando sul ventre lungo i corridoi, una notte in questa pensione mi arriva la telefonata di Fabrizzi, il soggetto gli era piaciuto, lo voleva comprare e mi invitava al hotel Bernini Bristol dove lui viveva l'indomani, sono andato, me lo pagò 300 mila lire, la cifra a quell'epoca come oggi dire 6, 7, 8 milioni e cominciamo a lavorare alla sceneggiatura assieme a Ruggero Maccare, un'altra fortuna è che lui in quel periodo il dottore gli aveva proibito di mangiare, allora quando finivamo di lavorare lui andava in cucina, faceva fettuccine, abbacchi, piatti straordinari eccetera, per me che dovevo restare a mangiare perché lui gli piaceva vedermi mangiare, era come se mangiasse lui e io così mi sono ringrassato e così è ricominciata la mia vita. Mi pare di poter dire che ha questo contrasto, aveva questo contrasto, bellissimo aspetto e è cosa rara contemporaneamente perché in genere uomini e donne di bellissimo aspetto non hanno questa seconda grande qualità e lui invece l'aveva e ce l'ha, spiritoso, ironico, raccontava le vicende rivestendole di una naturale ironia e quindi alleggerendole, ci è sembrato subito a Age, a me e a tanti altri, spiritoso, acuto e penetrante come se non fosse stato invece anche così sfacciatamente un bel giovanotto che poteva fare anche il playboy o fare l'attore.